il sindaco di assidere il sindaco di assidere oh vuoi fare la foto? il figlio, il figlio, va bene perché sono a terra e chi non dà la borsa? no, tu c'hai provato a via a qui ghiando a qui io ti volevo presentare io io ti volevo presentare io solo come è il caso? Grazie.